10 motivazioni per utilizzare Google Hangout al posto di Skype quindi abbiamo detto una piccola diatriba Hangout vs Skype allora, il primo motivo è che gli Hangout sono integrati con Chrome il browser di Google, quindi non avete bisogno di installare nulla di esterno la seconda motivazione è Hangout on Air quindi Hangout in diretta, quello che vi dà la possibilità di essere sulla pagina dell'evento e avere una sorta di webinar la terza è che sono integrati con tutto l'ecosistema Google come il calendario, la posta, la Gmail e chi più ne ha più ne metta la quarta motivazione è che ci sono molti strumenti gratuiti all'interno degli Hangout uno dei quali è per esempio l'Hangout Toolbox che voi vedete qua sotto che dà questa funzionalità fighissimo Hangout uguale marketing proprio perché ci sono questi strumenti che vi danno la possibilità di personalizzare la vostra trasmissione il vostro brand, dare messaggi e di diverso tipo anche Sesta, gli Hangout in diretta sono dei webinar quindi non avete bisogno di, sono gratis e non avete bisogno di pagare costose strutture come GoToMeeting o GoToWebinar o altre piattaforme per fare un webinar ce l'avete a disposizione così Settima, condivisione diretta su Google Plus quindi potete sfruttare tutte le potenzialità di questo fantastico social per condividere il tuo messaggio Hangout appartiene a Google e Google è reincontrastato di internet quindi ha una potenza incredibile e ti aiuta a salire su di rank Nonna motivazione Hangout è sia sincrono sia sincrono che ho detto in modo quasi uguale comunque sincrono è avere le persone in diretta con te che condividono le cose in diretta con te a sincrono è quando questa cosa qua avviene non in diretta quindi a posteriore Hangout ce l'ha questa possibilità Skype no Ultima ma non ultima Hangout è divertente perché ci sono tutta una serie di strumenti che potete utilizzare per divertirvi con le altre persone Bene, questo è tutto per oggi Ecco qui una di queste grazie Fabio ecco qui una di queste di questi strumenti appunto mi auguro che sia stata divertente questa piccola questo piccolo escursus che sia stato molto utile per voi quindi iniziate ad utilizzare gli Hangout assolutamente da oggi stesso e fate come me quindi qui Riccardo Romano di Hangout Marketing Italia aggiungetemi alle vostre cerchie ai vostri contatti mi trovate ovunque come Hangout Marketing Italia e mi auguro che il nostro percorso si incroci di nuovo Ciao, alla prossima!